Un pomeriggio di musica, quello di domenica 18 dicembre, il Lions Club di Caltanissette ha infatti organizzato un concerto di Natale, un evento che si svolgerà nell'aula magna del Consorzio Universitario Nisseno e che permetterà di sostenere il restauro di una tela settecentesca di San Michele. Muove i primi passi l'allestimento di un piccolo museo della cattedrale dedicato a San Michele nei locali adiacenti il Duomo, sul lato sinistro della facciata, racconta infatti padre Gaetano Canalella, parroco della cattedrale. La parrocchia sta organizzando infatti parallelamente una raccolta fondi attraverso la vendita nel weekend di torte tra San Sebastiano e la cattedrale. In genere tutte le cattedrali hanno una sala espositiva o un museo tesoro della cattedrale, ci spiega ancora il parroco, che Caltanissette ancora non ha. L'idea è quella di esporre oggetti, quadri, statue e paramenti che facciano riferimento al Santo Patrono. Il concerto si sta realizzando sotto la direzione artistica del professor Fabio Maida, socio del nostro club, noto musicista, che tra parentesi anche lui esibirà in duo alla chitarra. Saranno presenti anche altri artisti e quindi anche la corale Don Milani appunto. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere fondi per il restauro di una tela raffigurante San Michele Arcangelo, risalente al 1700 e di grande valore artistico. Questa tela diventerà parte integrante del nascente museo della cattedrale. E appunto per sostenere questo progetto abbiamo deciso di finanziare il restauro della tela. Quello natalizio è un periodo intenso per il club nisseno, che in programma anche altre attività, come ad esempio una cena solidale nella cripta della cattedrale, realizzata in collaborazione con la parrocchia, un imbito rivolto a circa 70 persone. Noi abbiamo in questo periodo tante iniziative. Poi sabato provvederemo alla donazione di alcune biciclette. Queste biciclette verranno donate al carcere minorile di Caltanissetta. Peraltro poi abbiamo anche in programma per giorno 20, per martedì 20, la nostra tradizionale cena natalizia. È una cena che noi organizziamo in favore di persone in condizioni di relativa difficoltà, di disagio. E noi in questo caso provvediamo, oltre che all'organizzazione della cena, anche a una normalmente simpatica animazione serale che coinvolge i bambini presenti.